ci intrufoliamo in questo fantastico cerchio per andare a conoscere questa ragazza e soprattutto andarvela a presentare come ti chiami? Sonia io tra l'altro regia riedici che ci spostiamo mi sto trasfigurando sto facendo l'ascensione praticamente eccoci qua allora ripeti scusa Sonia dove vieni? Valdinon che si trova dove per gli amici di Napoli? In Trentino in Trentino molto bene immaginavo fosse su perché val già indica che siamo su e cosa ti fa scendere dalle montagne di Poidi per venire fin qua al lago? Non è stata una scelta volontaria sono stata a raffinare il mio apportamento nel pomeriggio e mi sono trovata qui e cosa festeggi? Dovina un po' non saprei? Non sa non sa diciamo che lei gira con questo ho qualche indizio ho provato a camminare? Non lo so c'è una coroncina c'è una faccetta dici tu vuoi provare a dare? E' l'Italia che c'è una faccetta? E' l'Italia poi fanno la differenza come si dice? Vai vai prova a come dire dare delle ipotesi? Stavo pensando di sposarmi oh si sposa si sposa siamo felici ma è definitivo ci stai solo pensando? Come è definitivo quando e con chi allora? Primo giugno di Roma con Omar che salutiamo vuoi salutarla? Ciao Omar vuoi mandargli un messaggio? Meglio di no? Meglio di no? Rimane criptica mi piace che nella Val di Nonne siano un pochino così no? Un messaggio perché ciò che si fa è sufficiente la mia dubbiata deve rimanere da tutti brava mi piace questa citazione da Fight Club ripresa dal cinema ti piace il cinema? Sì! Qual è il tuo più preferito? Uno che ti rappresenta? Guarda un pochino di Shipping! Ok però le piace bene ci va a piacere! Qual è il tuo hobby allora preferito? Riposare! Lo faccio poco! Ci va a piacere ci vuole anche un po' di riposare una vita piena e ricca di impegni appuntamenti! Allora non ti faremo riposare stasera ti avviso! Benissimo! Quanta autonomia hai? Mettetemi alla prova! Ok vediamo vediamo come se la cava! Dato un attimo controllo qui dietro come va? Sì batteria e carica batteria ce n'è ancora! Allora facciamo un saluto a tutti quelli che ci guardano e ci guarderanno facciamo un saluto al tuo marito! Ciao! Ciao! E alle tue amiche che sono qui dietro e stanno mortando! Grazie! Grazie a te! Buona serata! Buon divertimento! Ciao! 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 Ciao!